A seguito di una complessa e articolata attività d'indagine, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento della polizia ferroviaria per il Piemonte-Valle d'Aosta sono riusciti a identificare dieci componenti di una gang responsabile di diverse rapine commesse a bordo dei treni regionali sulla linea Torino-Savona. Il modo soprantile del gruppo criminale era sempre lo stesso. Le giovani vittime venivano cerchiate mentre erano sedute nella carrozza e venivano minacciate con coltelli, tubi metallici o bastoni, costringendole a cedere i loro valori, come denaro, gioielli e in occasione persino capi di abbigliamento poco prima acquistati. La violenza del gruppo in alcuni casi non si è limitata alle minacce verbali, infatti le vittime venivano spintonate e costrette a restare sedute durante le rapine. Le complesse indagini, svolte anche attraverso il prezioso utilizzo dei social, hanno permesso di identificare tutti e dieci componenti della banda, costituita da otto soggetti magrebini e due italiani, dei quali tre minori. L'identità delle autori è stata accertata anche grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie, dove le telecamere hanno ripreso i componenti della banda durante le fasi delle rapine e mentre fuggivano dopo aver commesso il fatto. Al termine dell'indagine sono state eseguite sei misure cautelari, di cui quattro custodi in carcere, mentre gli altri sono stati denunciati in stato di libertà. Grazie per la visione!